Nel bilancio di previsione della Regione Marche che abbiamo approvato oggi sono stanziati 800.000 euro per il completamento dei lavori delle scogliere nella zona di Sassonia, esattamente di fronte ai bagni Carlo e ai bagni Gabriele. È una cifra importante, tanto attesa e che dà una risposta definitiva alla difesa della costa nella zona di Sassonia. Le altre risorse che vanno a difesa dei bagni Maurizio sono già state stanziate dalla Regione Marche, il Comune ha già fatto l'appalto e quindi si completeranno i lavori durante il prossimo inverno. Nel contempo, facendo un bilancio complessivo sulla città di Fano, la Regione ha stanziato oltre 8 milioni di euro, 4 milioni e 2 per la difesa della costa nella zona di Metaurilia, sud del fiume Metauro e i 3 milioni e mezzo circa che sono a difesa della zona di Sassonia sud e della zona del Bersaglio e di Viale Ruggeri. Sono cifre importanti, mancavano le risorse per completare i lavori fino ad arrivare alla zona del porto. Con il bilancio di previsione abbiamo mantenuto un impegno che ci eravamo presi con la città di Fano, con gli operatori balneari, con gli operatori turistici perché la difesa della costa è un'opportunità non solo per gli operatori balneari ma per il turismo nel suo complesso. Quindi 800 mila euro nel bilancio della Regione per completare i lavori a Sassonia Nord a difesa della costa.